Un cordiale saluto a tutti qua da Matteo Licata per la nona giornata di eccellenza siciliana Girone A dallo stadio comunale Janselmo di Belmonte Mezzagno, la partita che vede a contraposte Oratorio San Ciro e Giorgio contro Dattilo Noir. Partita molto difficile da entrambe le parti, l'Oratorio San Ciro e Giorgio ha fame di punti, deve uscire dalla zona difficile della classifica, dalla seconda metà, mentre Dattilo Noir che viene da otto vittorie consecutive cercherà in tutti i modi di migliorare il proprio ruolino di marcia. E cominciamo in questo momento il fischio d'inizio, subito con Secum nel ruolo di capitano, mentre nell'Oratorio San Ciro il capitano è Salvatore Di Peri, classe 88. Falsone, batte il calcio d'angolo, attenzione, di testa svetta Angelo Rallo, il tiro di Fernandez, a lato. L'Api, il tiro, attenzione ancora, l'Api, parata, Eurogoal di Parisi, incredibile, da almeno 40 metri. Quando siamo all'inizio del 28esimo, Eurogoal di Parisi, da almeno 40 metri, vediamo per Giorgio Rallo in posto e contropiede, attenzione Rallo, secan, secan. Il cross basso direttamente nelle braccia di Randazzo, buona progressione, palla al piede, sarà sicuramente molto pericoloso per il Dattilo Noir che nel frattempo va avanti con Parisi. A cercare De Luca, De Luca, De Luca, Agostino, De Luca, incredibile quando siamo nel corso del ventesimo minuto. Buon anno, buon anno, spazza fregapane, Di Peri, il tiro, parato da Mistretta e poi l'Api.